Prenderanno il via a breve i lavori di trasformazione dell'area del ceppo, lo ha annunciato il sindaco di Pistoia, Samuele Bertinelli, durante il suo saluto alla città in vista delle imminenti festività natalizie. Il nuovo quartiere che sorgerà nel luogo che per 700 anni ha ospitato l'ospedale cittadino rappresenterà un esempio positivo, non solo in Toscana, ma di urbanizzazione pubblica e sostenibile di qualità, capace di preservare il tessuto storico e artistico dal quale si origina e al contempo di accogliere le più avanzate e innovative strategie di rigenerazione. Dai prossimi mesi vedremo infatti l'avvio di un processo di trasformazione materiale, fisica, del ceppo, in un nuovo quartiere di stampo europeo, segnato dal verde diffuso di un grande parco attrezzato, libero dalle auto, di elevata qualità ambientale, urbanistica e architettorica, caratterizzato da numerose e qualificate funzioni pubbliche e da una modestissima presenza residenziale di pregio.